Sono Giovanni Vaglietti, ho 64 anni, mi candido per sei motivi. Uno perché Marzia Marchesi e Pedersoli me l'hanno chiesto, due perché ho 64 anni, zero ambizioni di carriera e molto spirito di servizio, tre perché l'impegno sociale per me è una malattia che ho contratto all'oratorio e non l'ho più persa, quattro perché sono un moderato e nel PD, nel Partito Democratico mi sento a casa, cinque perché ho lavorato in comune e ho visto una macchina da guerra al lavoro, ho visto Gori perché lavoravo lì e veramente ho deciso di continuare a combattere per lui e poi sei perché l'impegno politico per me è soprattutto per le cose che amo e anche le cose che amo sono sei, Colognola dove ho le radici della mia famiglia, San Tommaso dove sono cresciuto e ho fatto il mio impegno politico, Redona dove abito adesso e dove ho già tanti nuovi amici, il lavoro che ho fatto, anche quello lo amo, la biblioteca Tiraboschi a cui ho dato tutta la mia vita e poi il comune di Bergamo dove ho lavorato alla direzione generale e che ritengo comunque un'azienda in cui è bello lavorare perché davvero è un'azienda che ha garantito il buon governo di questa città. L'ultimo motivo è che Bergamo è una città che ha un grande passato, un presente molto dinamico e io mi auguro anche un grande futuro. Grazie. Rodrigo, Grazie, Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.